Ed eccoci pronti per l'impiattamento di questi rigatoni col sugo di salsicce che ho fatto per le mie figlie. Sudo che ho preparato ieri e che mi era avanzato e come sapete chi mi segue lo sa, a casa mia non si butta nulla. Ecco qua, una salsiccia salsudo e via così. Se puoi rimanere la lanciata e l'oroggio condividete e mettete 20 likes.